La nostra azienda nasce qua a Baia, che è una versione di Bamboli. Tanti anni fa mio padre ha iniziato qua a fare la demolizione navale. Dopo abbiamo pensato di carciaturismo, di ormeggi con le barche. Dall'ormeggio ci siamo accorti che c'erano tante barche da spostare. La società di trasporto è nata 25 anni fa. Da 2009 ci siamo allargati molto velocemente. Oggi abbiamo una bella flotta di quasi 30 camion. Maggio a luglio riusciamo a spostare dalla 50 a 80 barca a giorno. Amo le barche ma amo anche i camion. Infatti qui abbiamo questo MAN TGS che è stupendo. Proprio così abbiamo deciso di creare una flotta di MAN e abbiamo visto anno per anno molti miglioramenti. Grazie a MAN riusciamo a soddisfare i nostri clienti con la massima sicurezza. a 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 Oh, 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 oh